Si è conclusa nel migliore dei modi la triste vicenda del sequestro di un bambino di 4 anni da parte del suo papà di 35 anni di origine rumene che lo aveva strappato dalle braccia dell'assistente sociale e quindi nascosto nella casa di Roncadelle. L'appuntamento era stato fissato nel pomeriggio di ieri in un parco giochi di Rodengo Saiano. Il padre doveva incontrare il bambino che gli era stato portato dall'assistente sociale. L'assistente sociale, una donna di 36 anni che aveva con sé il piccolo, quando ha capito che l'uomo non aveva intenzione di accettare che il bimbo fosse stato affidato alla madre, ha cercato di tenere il bambino vicino, di convincere il genitore fuori controllo a non complicare la situazione. Ma tutto questo non è servito. L'uomo si è scatenato, prima la minacciata con una pistola, poi la ha aggredita fisicamente strappandola dalle braccia al bambino e fuggendo in direzione degli svincoli e delle tangenziali. La donna si è precipitata sulla strada principale chiedendo aiuto e cercando di capire la direzione di fuga dell'uomo. Molte persone hanno assistito alla vicenda dalla vicina farmacia, dalla banca e dai negozi. Ed è stato quindi dato l'allarme a 112. A Rodengo sono arrivate le pattuglie dei carabinieri che hanno ascoltato la donna, che è stata anche medicata dal personale dell'ambulanza, ed hanno avviato le indagini. Quindi i carabinieri hanno ascoltato i testimoni e iniziato ad analizzare i dati dei lettori targa dei comuni della zona e le immagini delle telecamere degli esercizi più vicini alla zona dell'aggressione. La foto e la descrizione dell'uomo e del bambino sono state diffuse a tutte le pattuglie su strada, ma anche ai posti di frontiera, ai porti e alle stazioni. Dopo qualche ora i carabinieri hanno individuato l'uomo in un appartamento di un complesso residenziale di una zona di recente edificazione a Roncadelle e sono scattate tutte le procedure previste in questi casi. Oltre alla pistola che aveva mostrato l'assistente sociale, c'era la possibilità che avesse armato porte o finestre. Per questo, per prima cosa, è stato bloccato il traffico in tutto il quartiere con pattuglie di carabinieri con il giubbotto anti-proiettile ad ogni angolo di strada. A ridosso dall'appartamento sono arrivate le squadre antiterrorismo, le aliquote di pronto intervento, con il negoziatore che ha aperto un filo diretto di comunicazione con l'uomo asserragliato. Nel frattempo, nella vicina caserma dei carabinieri sono state fatte confluire anche squadre di vigili del fuoco per qualsiasi necessità tecnica e di supporto ad una irruzione, pattuglie di rinforzo per dare i cambi ai colleghi e le ambulanze. Le trattative sono proseguite tutta la notte. Sul posto, questa mattina, è arrivato anche il procuratore capo di Brescia, Francesco Prete, per seguire in prima persona questa delicata fase. Verso le 10.30 questa mattina una prima svolta. L'uomo ha consentito ai carabinieri di entrare nella casa di Don Cadelle al termine di una trattativa che proseguiva senza sosta da ieri. Quindi, poco dopo, verso le 11.15, il bambino è stato liberato, sta bene ed è stato affidato subito ai servizi sociali. La questione si è risolta. Il bambino sta bene e il padre si è pentito del gesto che ha fatto. Tecnicamente è un sequestro di persona e sarà arrestato, ha detto il procuratore Prete, uscendo dall'appartamento. L'uomo, separato dalla mamma del bambino di 4 anni, ha precedenti per violenza domestica. Infatti, si trovava agli arresti domiciliari dopo che un anno fa aveva aggredito l'ex moglie e l'avvocato della donna, sempre per questioni legate al bambino che lui avrebbe voluto vedere più spesso.